Siamo sopra Rigoberto Uran, vicino c'è la nostra marina organizzatrice di tutto questo e abbiamo anche la maglietta Sky dal Giro d'Italia, la maglietta in centro della Columbia e la sua maglietta della sua equipa, questo per fargli onore, onore della sua presenza veramente è un ragazzo fantastico e io penso che tutta quella gente che c'è qui stasera è tutta gente veramente che ama il Ciprimo innanzitutto e poi simpatizza con questo Rigoberto Uran perché è un ragazzo meraviglioso questa sera come dicevo abbiamo la presenza per la prima volta